6 italiani su 10, il 57% dei consumatori, hanno ridotto lo spreco di cibo per effetto della crisi. A certificarlo è un'indagine Coldiretti. Tra coloro che hanno ridotto lo spreco, il 47% lo ha fatto, sottolinea Coldiretti, facendo la spesa in modo più oculato, il 31% riducendo le dosi acquistate, il 24% utilizzando quello che avanza per il pasto successivo e il 18% guardando con più attenzione alla data di scadenza. In Italia, a causa degli sprechi dal campo alla tavola, viene perso cibo per oltre 10 milioni di tonnellate e la tendenza al risparmio è quindi, sostiene Coldiretti, uno dei pochi effetti positivi della crisi in un paese dove gli sprechi alimentari fanno perdere un valore annuale stimato pari a 37 miliardi in grado di garantire l'alimentazione per 44 milioni di persone.